Ben ritrovati in questa seconda parte di Angoli, ve l'avevo annunciato prima della pubblicità, adesso parliamo di un evento che si terrà questo fine settimana, un concerto del circolo mandolinistico in favore dell'associazione La Rinascita Onlus, concerto che si terrà sabato 21 febbraio nella sala bianca al primo piano del teatro sociale. Ne parliamo con Gian Mario Pagani, presidente dell'associazione La Rinascita, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie, grazie a voi. E con Sergio Capogna, direttore dell'orchestra del circolo mandolinistico, buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera a lei. Dunque, presidente, iniziamo da te, iniziamo con lo spiegare di che cosa si occupa La Rinascita, che tipo di associazione è? Sì, è un'associazione neocostituita, costituita ormai da un anno circa, e si occupa delle emergenze che stanno vivendo i papà separati. Quindi ci stiamo occupando con qualche difficoltà di tutte quelle problematiche relative a queste persone che noi possiamo tranquillamente incontrare per strada, in ufficio, sui pullman, eccetera, che sono i papà separati di Como e non solo di Como. E appunto, nell'ambito proprio di questa associazione è nata poi la collaborazione con il circolo mandolinistico. Questa bellissima collaborazione si deve ad un'amicizia tra uno dei nostri papà, ed è poi la colonna portante della nostra associazione. Mi riferisco a Federico Giusti. Questa amicizia con Federico Giusti è nata grazie alla presentazione che è avvenuta da parte di Bruno Magatti, che è l'assessore alle politiche sociali del Comune di Como, a cui devo appunto questa amicizia, e a sua volta l'amicizia tra Federico Giusti e Sergio Capogna, che è qui presente con noi oggi. Quindi da qui nasce la collaborazione. Il vostro contributo è quello appunto di mettervi a disposizione per questo concerto. Certo, e come è nato semplicemente passando, e come al solito ci si incrocia fra amici, cosa stai facendo, eccetera, ma sono qui. E a questo punto per sostenere i loro sforzi, mi è venuto in mente, e mi dico, ma perché non proponiamo della musica ai comaschi che vorranno cercare di aiutarvi? E allora da lì è nata questa idea di fare questo concerto ad opera del Circolo Mandolinistico Città di Como, che sono strumentisti di appunto questo genere. portare mandolini, chitarre, abbiamo l'arpa, abbiamo un flauto, e portare anche con la voce di Francesca Lucini magari un'attenzione particolare all'opera che sia Gian Mario che Federico che ci controlla da dietro. Che ci segue da dietro le quinte. e appunto portare all'evidenza della città. Che tipo di concerto sarà? È indubbiamente non pesante, per un semplice motivo. La musica che noi proponiamo spazia dal 1300 ai giorni nostri. E a secondo di dove dobbiamo far ascoltare quanto viene prodotto da noi, cerchiamo di indirezzare al pubblico un messaggio. che prevederà alcuni autori noti, ad esempio Mozart, Bach, lo stesso degli sconosciuti, magari molto più recenti, cioè senz'altro più recenti, come Gianberto Perucchi, come può essere invece François Menichetti, docente del Conservatorio di Parigi, dove anche da collaborazioni nate Menichetti con Puccini qui a Como, tra l'altro fa piacere sapere che in Como, a Stradella, via Cinque Giornate, c'era questo bar dove Puccini ha lasciato 26 lire e 71 centesimi di debito e dove lì c'è stata la sfida fra loro due per vedere un brano che noi andremo a produrre. Allora, il messaggio che viene dato da ogni singolo brano e sarà data spiegazione di volta in volta prima dell'esecuzione, porterà come filo conduttore gli sforzi che ciascuna persona impiega nella propria vita per cercare di sensibilizzare gli altri. E qui mi sembra che si sia trovata la base di collaborazione appunto con gli sforzi di Gian Mario e di Federico. Per cui che questa musica poi in fondo ben si presta alla causa. Quali sono, entrando un po' più nel merito chiaramente delle vostre attività, quali sono i servizi, se possiamo definire così, che offrite, le problematiche con cui vi ritrovate più spesso a dover far fronte? Come ti dicevo, siamo nati ormai da un anno e stiamo inventandoci e quindi ogni giorno per noi è un successo averlo superato perché ci definiamo meglio, siamo più bravi del giorno prima a dare risposta a queste problematiche che nemmeno noi conosciamo, conoscevamo l'esistenza. Io sono un modestissimo consulente finanziario per cui il nostro approccio inizialmente è stato economico. Quindi i primi servizi che noi diamo, come dice spesso il comune amico Federico, è un po' l'emergency della situazione. Quindi l'emergenza abitativa innanzitutto, perché molti papà non hanno una casa. Ecco appunto perché si ritrovano a dover lasciare, definiamo così, il tetto coniugale a non poter poi magari invece provvedere per se stessi. Non poter provvedere sia per una questione contingente, la moglie ti dà le valigie, tu le prendi e dove vai? Vai in una macchina, alcuni hanno trascorso alcune notti in automobile, altri in qualche albergo di infima categoria per risparmiare quindi. E quindi noi cerchiamo di prestare la prima accoglienza. La prima accoglienza diciamo dipende dal tipo di papà che abbiamo di fronte. Ci sono papà che hanno dei trascorsi importanti, quindi hanno esperienze sociali e lavorative interessanti, importanti, e fanno fatica ad abituarsi al loro status sociale, economico, attuale. Non è raro trovarli a rapportarsi a problematiche di tipo depressivo. Io non sono uno psicologo per cui affrontiamo questa prima emergenza. Abbiamo vicino degli psicologi che ci aiutano, abbiamo vicino anche, perché no, dei legali che sostengono eventualmente la causa del papà, perché sovente questi papà sono anche molto superficiali nel gestire le loro cose. Quindi i servizi, per rispondere alla tua domanda, sono di vario tipo. C'è il servizio psicologico, quindi se hanno necessità di un sostegno psicologico, il servizio legale, gratuito, laddove si sono un po' lasciati andare sotto questo aspetto e quindi sono stati un po' vittima di pressapochismo, di superficialità. Un'assistenza che permetta loro di conoscere quelli che sono anche i loro diritti. I loro diritti, sì, che, attenzione, non significa questo, lo sottolineiamo sovente ad ogni approccio che abbiamo, non significa contrapporci all'altra parte del cielo, all'altra metà del cielo, che è l'universo femminile. Per cui non significa dichiarare guerra, insomma. No, anzi, tra le nostre maggiori sostenitrici abbiamo le donne. In modo particolare abbiamo quattro avvocatesse, se si può dire, che ci aiutano. Abbiamo una presenza femminile al concerto molto interessante. Non voglio citare qualcuno per dimenticarci qualcun altro, ma abbiamo vicino Soroptimist, abbiamo vicino la famiglia Comasca, abbiamo vicino una magnifica realtà come Comocuore, che ci stanno sostenendo e soprattutto, le ripeto, la presenza femminile, perché comprendono che ai noi, complice anche la crisi economica tuttora galoppante, l'uomo è la parte della famiglia ormai distrutta che maggiormente ne paga le conseguenze. Per cui, riassumendo, c'è un tipo di assistenza economica, comunque diciamo di consulenza anche da questo punto di vista, assistenza legale, assistenza psicologica. Questi sono dei servizi. Poi c'è quello che noi riteniamo più importante, che la nostra associazione è settata e strutturata su tre linee guida, mi scusi, la casa, il lavoro e gli eventi. Per casa, spendo due parole, ed è un appello che faccio ai suoi ascoltatori, chi dovesse essere proprietario di un immobile, attualmente, possibilmente arredato, e non trova l'affittuario degno, quindi sia con delle garanzie economiche che possa tranquillizzare il proprietario, sia soprattutto con prezzi adeguati al mercato, noi stiamo facendo una proposta a questi proprietari di poter dare alla nostra onlus l'affitto di questo appartamento a condizioni magari di favore, a condizioni di ecocanone, comunque anche per un periodo breve, che ci consenta di alloggiare questi papà, perché stiamo cercando casa. Per cui di venire incontro, non solo magari dando una mano economicamente, ma proprio in modo fattivo, partecipando al concerto di sabato, perché no, anche in questo modo. Tornando al concerto, secondo me è particolare, la vediamo adesso nella foto, che si terrà nella Sala Bianca, da poco restaurata, e quindi vogliamo dire che magari è anche questo un messaggio, un po' di ottimismo. Certo, anche perché il Salotto Beni di Como, come Sala Bianca, ha visto ospitare nomi importanti, grazie al passato dove hanno sfilato nomi come Canino, come Salvatore Accardo, anche proposti dalla gioventù musicale, eccetera, pertanto per Como era un appuntamento importante poter andare ad udire i grandi. Noi siamo piccini, desideriamo appunto dare questa possibilità di capire che cosa può essere il messaggio che accomuna anche un pochino il padre che rimane abbandonato, perché il mandolino è uno strumento abbandonato nella cultura musicale. lo si definisce italiano e lo si rilega tranquillamente a livello di strumento d'austeria. Però così non pensarono Mozart, per cui scrisse parecchie pagine di musica, abbiamo avuto Vivaldi, abbiamo avuto Giuseppe Verdi, eccetera. Allora la proposta di rinascere come strumento di rinascita a livello di padri ci accomuna appunto nel messaggio, diamoci una mano per far conoscere queste realtà. Ebbene, questo è il messaggio che volevamo lanciare. Abbiamo visto poco fa la locandina, lo ricordiamo, il concerto del circolo mandolinistico in favore dell'Associazione La Rinascita che si trarà sabato 21 febbraio alle ore 21 presso la Sala Bianca del Casino Sociale del Teatro di Como, diciamolo così. Grazie quindi al presidente della Rinascita Onlus, Gianmario Pagani, grazie anche a Sergio Capogna, direttore dell'orchestra del circolo mandolinistico, per essere stati con noi, grazie ancora davvero. Grazie a lei. Noi invitiamo tutti i nostri telespettatori a partecipare all'evento di sabato e intanto però vi lascio alle notizie del telegiornale. Ci ritroviamo domani, sempre alle 19, per una nuova puntata di Angoli. Buona serata.